Ciao, benvenuto al consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore Volta per quanto riguarda il Dow Jones Questa sera farò quattro analisi, ieri chiedo scusa se non le ho fatte, questa è del Dow e dell'Euro-Dollaro ma tanto per cambiare ho avuto una colica renale, quarta colica in neanche cinque mesi e chiaramente non ce l'ho fatta, ce l'ho provato, sono onesto, ma non ce l'ho fatta quindi questa sera farò queste quattro analisi iperveloci parto subito dal resoconto della mia operatività chiaramente questo mese è ormai timbrata come negativo, molto negativo 261 punti meno Nasdaq, 90 punti DAX in realtà ancora due operazioni sia sul DAX che sul Nasdaq che presumo chiuderò negativa anch'esse quindi sarà un mese molto molto negativo Nasdaq mi sta letteralmente ammazzando con una percentuale di stop disumana sto parlando di 10 operazioni di cui 7 in perdita e 3 in profitto quindi qualcosa di veramente fotonico tutto ciò che è statistica è saltato infatti quelle di oggi saranno le ultime due operazioni e poi lunedì o già domenica sera inizierò ad entrare short come se non ci fosse un domani quindi lo dico già adesso e short andrò a inserire ordine su ordine su ordine fino a quando i mercati non gireranno oggi è successo qualcosa che secondo me è una porcheria pure del mondo andiamo a vederli velocemente al di là di Netflix che abbiamo la scusa eventualmente della trimestrale di domani Microsoft che alle 17.30 ha fatto 7% di salita era meno 1 si è trovata a più 6 siamo a più 5.24 ma del resto anche Netflix andandola a vedere non scherza perché da ieri parliamo da ieri alle 8 stiamo parlando di qualcosa come un 6% ma la cosa vergognosa è che era appena positiva neanche un'ora fa e siamo a 5% provate a chiudere ancora oltre idem Tesla che era negativa fino a poco fa portate a rialzo domani immagino che toccherà ad Apple Amazon e Google perché lunedì ci sarà l'obbligo di vendere storie non ce ne sono ok potranno comprare dovranno comprare altre chiaramente società ma dovranno vendere le big quindi le big ok il Nasdaq probabilmente andrà a fare i massimi assoluti questa settimana perché mancano alla fine la fiera a 600 punti a 700 siamo a martedì mercoledì giovedì a 400 punti al giorno 300 punti al giorno Nasdaq massimi storici entro la settimana si può fare da là per me lo short non me lo toglie nessuno potrà farne altri anche mille di rialzo ma io continuerò a shortare e sbagliando per carità ma ok tutto però a un certo punto quanto meno mi auguro che la regolamentazione la seguono non mi aspetto tanto ma un 5% 4-5% del Nasdaq secondo me lo farà probabilmente dopo i massimi storici torniamo velocemente al Dow Jones Dow Jones chiaramente il picco previsto per il 13 ovviamente come normale ormai che sia perché accanto funziona così è stato saltato abbiamo tutta la serie di minimi che era prevista per queste date 18-17 luglio chiaramente è andato tutto quanto a farsi benedire ok e andiamo a spostare tutto più in là nel tempo quindi andiamo a spostare il ciclo da 10 giorni al 22 di luglio quello da 20 giorni al che data è questa al 26 di luglio gli altri sono rimasti inalterati perché questo spostamento perché la dilatazione come vi ho già spiegato tante volte e questo enorme eccesso di volatilità dopo tante lateralità provoca un'espansione del ciclo vuol dire una maggior durata probabilmente verranno spostati ancora perché anche il Dow Jones immagino vediamo un po' quanto manca i massimi storici vediamo un po' o il Dow ah beh no il Dow non credo il Dow parliamo di 2000 punti ossia 1000 punti DAX si li può fare li può fare tranquillamente perché solo oggi il Dow ne ha staccati 500 quindi 4 giorni così esattamente fino a venerdì anche Dow massimi storici si potrebbero anche vedere ovviamente la previsione che cos'è si sta fuori chi entra long ha ragione ma è folle come chi entra short uguale e io al momento direi di stare fuori infatti incasserò anche gli altri stop sia sul DAX che sul Nasdaq poi mi fermo ma martedì lunedì martedì inizierò a lavorare solo America solo short adesso tra virgissimo procederemo procederò con la Nasdaq su Eurodollar ciao e buonasera dove caspite finito ecco grazie a tutti